Ad Agrigento. Occorrerebbe portare tutti al momento di assoluta saggezza. Il rettore dell'Università di Palermo, Roberto Lagalla, questa mattina ad Agrigento, per discutere sul polo universitario di Agrigento, è stato chiaro. L'Università di Palermo intende continuare ad investire ad Agrigento, ma chiede chiarezza in termini di rinuovo della convenzione di finanziamenti e soprattutto di confronto. Non c'è un problema di sovraccosti dell'Ateneo di Agrigento. L'Agrigento ospita il 6% della comunità accademica palermitana. Palermo ha un budget di circa 300 milioni di euro. Il 6% è circa 18 milioni di euro. Agrigento spende 8 milioni di euro. Il che significa che gran parte dei servizi è assicurata con sacrificio direttamente dall'Università degli Studi di Palermo. L'Università di Palermo si spende con risorse proprie per il mantenimento di questo polo, che Palermo vuole mantenere a tutti i costi, ma dobbiamo avere chiarezza dei rapporti. La gala non entra nel merito della polemica interna alla politica locale, ma in mancanza di certezze annuncia che si dovranno rivedere le posizioni. Il rettore inoltre difende docenti del polo agrigentino, di cui in queste ultime settimane è stata criticata l'eccellenza. Io veramente su questo mi considero particolarmente e fortemente stupito. Per la gala sarebbe davvero un dramma far spegnere questa fiamma. Io sono qui per dare la disponibilità dell'Università di Palermo, ma non consentirò a nessuno, dico a nessuno, di permettersi di schiaffeggiare anche minimamente l'Università di Palermo. Il prossimo 31 marzo si delibererà la continuità delle sedi universitarie decentrate e si dovrà tener conto del contributo finanziario degli enti. Per il delegato al decentramento dell'Università di Palermo, Maurizio Carta, la polemica di queste ultime settimane non deve far pensare che l'obiettivo del polo di agrigento sia fallito. È assolutamente falso. Noi stiamo parlando di un Ateneo come quello di Agrigento, che in questi anni è stato modello per altri decentramenti, riconosciuto non soltanto a livello regionale, ma anche a livello nazionale. Ricordiamoci in questi momenti di polemica che stiamo rischiando di non avere l'occasione, il tavolo, l'azione concreta per parlare del rilancio. Perché non c'è dubbio che dobbiamo parlare di rilancio. Ogni giorno l'Università parla di rilancio. Il presidente della provincia regionale d'Orsi, uno dei soci del consorzio universitario agrigentino, ha apprezzato il discorso di La Galla, improntato sulla costruzione e non sulla polemica. Loviscenari dunque si aprono per il polo agrigentino. Grazie.